la logica della revisione del piano strutturale comunale, questo è un di cui però, un di cui, come dire, è un grande approfondimento e quindi dico che appunto con gli altri enti sono dialogo ma soprattutto bisogna avere degli studi seri che dicano oggi qual è il punto zero, perché anche la data della provincia ad esempio fa un'osservazione importante, cioè che i dati di pioggia sono assolutamente incrementati, questo non serviva solo incrementati nel senso che ci sono eventi improvvisi e forse.